E' stata una mattinata speciale Quella di oggi per la fiatturina Auxilium Capitan Peppe Poeta, Sasha Vujacic, Lamar Patterson e Quinto Stephens Sono andati in visita a Regina Margherita A fare gli auguri di Natale ai bimbi dell'ospedale Con loro il giovane mago Gabriele Sanna Che tra sguardi ammirati e tante risate Ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini Grazie a tutti! Grazie a tutti!